o la luce d'ora se coriacei catapultatori di cutrento le ben ritrovati dal vostro disperatissimo silver disperatissimo perché perché ho perso una parte di video in cui sono riuscito a farmi scannerizzare la retina bastava avvicinare la faccia alla alla batteria in cui sono riuscito praticamente a creare un nuovo checkpoint e oltretutto avendo trovato la terza batteria mi sono fatto delle domande chiedendomi su come mai ci fossero solo due buchi e tre batterie devo andare a recuperare la seconda purtroppo io ho scoperto come si faceva e vi leverete la sorpresa ma sappiate che quel video di un quarto d'ora circa 20 minuti è stato estremamente frustrante rumore vediamo se riesco ad incasinarmi la vita ok riuscire a passare io non so se esiste un modo più facile o un modo più difficile io i modi difficili li ho trovati tutti con somma gioia del mio intestino tenue e non potendo recuperare altri cubi e questo gioco mi ha fatto tirare delle maledizioni perché non c'è il salvataggio libero ossia si hai capito come si creano dei checkpoint ma non sei libero di usarli quando vuoi e questa cosa crea un documento un documento non poco documentoso allora io non so se sia più saggio poi a un certo punto passare all'interno di questo recinto vediamo intanto che sono distratti ragazzacci ok cubo là sopra c'è allora io ero riuscito a recuperare questa batteria e poi avevo perlustrato tutta la zona qua sotto perché non avevo capito come cavolo si facesse ad usarla l'ho capito poi praticamente quella batteria che prendevamo attraverso il vetro non va usata in quello spinotto perché guardandomi in giro ho visto degli appigli che proverò a prendere ammesso che io li trovi di nuovo però non ho molti dubbi dato che la finestra da cui si può uscire là sopra è una sola quindi se tanto mi da tanto allora vediamo eh ha funzionato l'hai sentito magari ti è anche piaciuto ok vediamo se riesco dovrei aver lasciato ancora un paio di cubi indietro perfetto spero che non sentano il primo di rumore ma l'ultimo io provo a passare c'ho mica l'idea tanto chiare eh eh esatto il pacco è che adesso l'ho tirato un po' troppo lunga e questi sono usciti e io non ho più roba da lanciare merdacchio vediamo se riesco a non farmi scatafottere inutilmente state buoni buoni state buoni dai achiappalo vediamo se è funzionato temo di no io lo rischio ok dovrebbero aver sentito quello è un gran peccato che non si possa correre e prego il signore che abbia funzionato la cosa perché è veramente estenuante ditemi di sì ditemi che ho fatto canestro nella finestra giusta ditemi che ce la possiamo farcela vi siete perse tante parolacce però mi sa eh grazie cosini grazie cosini così vedrete almeno come funzionano i checkpoint grazie allora bisogna aprire la maniglia doperare la batteria zifonarla nel trogolo aspetta eh aspetta signora scusi ho sbagliato mi sa che ho sbagliato buco e dai non facciamo i pignoli inutilmente oh bravissimo allora bisogna avvicinare bisogna avvicinarsi qua sorridi bravissimo e siamo riusciti a salvare appunto una un nuovo checkpoint allora se non ricordo male adesso il problema era andare a recuperare quello cosa che ci aveva fatto tribulare non poco e per di più inutilmente perché ecco allora questa è l'unica finestra da cui ho capito che si possa uscire vediamo un attimo ok vediamo se la balla laica qui vai vai ragazzo non la sta corri dinosauro dinocoso vai lì brava vai a ciucciare il pifero bravissimo ok vai vai ok dopo ti do un bocconcino io intanto tento di complicarmi la vita per vedere se ho capito perché non mi ricordo più allora vedete io guardandomi in giro qua questo raptor è fettentissimo perché è qui per distrarci in realtà la cosa interessante è qui qui proprio davanti a noi vediamo e mi sa di sì ok una lumacazza bene quanto adoro queste cose quanto adoro queste cose ah più su dobbiamo andare no mi sa che allora non ci siamo no sì sì ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo sì goduria goduria ho avuto una paura blu di cascare e mo questa qua sta e non devo ributtarla di là così oh bene 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 culo 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 però dopo devo tornare indietro amico coglioni che palle scarablatere e tutto sto giro per fare mezzo metro eh perché dove ho messo la batteria batteria ehi da ok perfetto scandisci mi la faccia eccezionale sì tutte le batterie sono al loro posto possiamo trasmettere l'energia al proiettore e metterlo in funzione bene ho vinto anche un trofeo per le batterie credo posso aiutarti? eh non lo so devo tornare indietro ah il Wix lo accendo per spostare i detriti ah fatti aiutare a risolvere la situazione oh questo no sono quasi fatti sono il più figo del mondo quindi ora aspetta ciccio credo di poterti dare una mano adesso sì 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 dove cazzo sei torna torna coso torna tu devi farci da cicerone in questo mondo fatto di batterie minchia eh cento venticinque trenta novanta cento zero minchia cento c'è il vomito tipo allora ciapa eh no ho già sbagliato ciapa ciapa lì ciucia ciucia minga eh coca burra no allora aspetta un po' aspetta un po' ciccia secchi così 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 e uno è andato e uno glielo abbiamo insaponato allora parte divertente no scusa un secondo è un 150 ah ok perfetto quindi per arrivare a 100 dobbiamo frazionarlo no no è comunque troppo così allora 25 sì andiamo comincio anche a capire come funziona qua invece dobbiamo andare di somme dobbiamo andare di somme quindi 25 45 e 30 giusto proviamoci minchia quanto sono figo quanto contentezza in fondo al mio cuoricino watch allora che bello allora dicevamo accenni proiett siete pregati di prendere posto dove prendo posto dove spingi gravità di chi mi occuperò d'ora in poi ma va fa un tuo culo quindi ho capito che non devo spingere la gravità non hai acceso il coso fatti aiutare a risolvere la situazione accendi il wigs accendimelo accendimi il wig posso aiutarti sì bestia accendi sto coso i detriti fatti aiutare a risolvere la situazione ma se sarai un merdone guardate che stronzo posso aiutarti fatti aiutare a risolvere la situazione sì accendimi il coso dai che ne ho abbastanza ne ho abbastanza pieno di scatole dei bug no devo rifarlo porca galera allora avevamo detto no 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 assolutamente avevamo detto una roba del genere una roba del genere ok questo era frazionato frazionato ok perfetto questo avevamo detto così 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 e così perfetto accendi il proiettore siete pregati di prendere posto il viaggio sta per iniziare siete pregati di prendere posto ok quindi io devo tornare nella gabina iniziale mi devo dare far il giro perché questo non mi accende il wigs accendimi il wigs dai ok perfetto mi piace mi piace mi piace quando mi accende il wig forza carichiamo i dati danneggiati presto il viaggio sta per iniziare siete pregati di prendere posto bielo c'è tanta frustrazione in me però tanta gioia tanta gioia sequenza di avvio pigialo potrebbe durare a lungo oh viaggio sta per iniziare lo avevi già visto? no diamo il benvenuto al nostro ospite d'onore di stasera Robin Anderson ciao ci ci sono io un cinema porno mi metto comodo fatta che la p.m. luce dal nulla il viaggio dell'umanità è stato lungo ma noi andremo ancora più velocemente più lontano raggiungiamo l'oscurità e portiamo la luce partiamo verso nuove stelle nuovi pianeti verso Tyson 3 a bordo della navicella Esmeralda ciao Esmeralda che aumentano ad ogni generazione bambini nati tra le stelle per essere come dei dove c'è l'oscurità porteranno la luce dove c'è il caos porteranno l'ordine e dove c'è la luce porteranno le bollette porteranno la vita il più grande viaggio dell'umanità terminerà qui su Tyson 3 tra un secolo ma questo è solo l'inizio i nostri figli si riuniranno lavoreranno insieme e costruiranno un nuovo mondo quando termina un viaggio dell'umanità inizia quello successivo una storia più incredibile di tutte quelle già raccontate costruiremo un nuovo mondo lì fuori porteremo la vita in ogni angolo dell'universo e risplenderemo se soltanto avessimo potuto costruire tutto questo incredibile c'è un mini Godzilla qui credence costruirò quella città ho tanto tempo libero che è? non temere Robin ho un piano oh cazzo 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 non è esattamente questo il mio piano cacuna 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 non mi pensare ma non è l'unica cosa che può spazzare un tirannosauro una meteora? no aspetta un altro tirannosauro fai una scansione di Laika ora scannerizza ma che ha fatto Laika? certo eseguirò la scansione dal proiettore ci vorrà del tempo urca ottimo lavoro andiamo credo di aver trovato l'uscita per di qua bene presto Robin che è? è chiusa eh va fuori non ti do una mano che devo fa? la proiezione non lo terrà occupato per sempre se soltanto avessimo una meteora il proiettore se disattivo la levitazione potrebbe funzionare ok ma prima sono morto pure io per cadere libera la zona di impatto oh merda ci abbiamo ammazzato la mamma sei contento? sei felice? eseguiamo una scansione veloce e assicuriamoci che sia morto potrebbe fingere immagino che sollievo ma io non ho scansione non ho scansionato un cacchio quello che siamo riusciti a fare quando abbiamo messo da parte le nostre divergenze sì grazie hanno ucciso tutta la famiglia di Laika e adesso stanno venendo per lei Laika deve rappresentare una seria minaccia se è un qualche tipo di predatore alfa è molto utile una volta domata oppure molto pericolosa ho capito ma dovrai addestrarla molto bene prima di farla entrare a far parte della nostra famiglia li dobbiamo da salvare a cuccioli è questo proiettore oh già il proiettore iniziamo stavo dicendo li dobbiamo salvare da cuccioli per scassarli da grandi bene ecco qua in qualità di vostro comandante vi prego di ritirarvi non rinuncerò alla vostra nave lanciate oddio no alcuni membri dell'equipaggio hanno cercato di effettuare il lancio forzato di uno shuttle l'esplosione ha mandato fuori orbita l'esmeralda le capsule di salvataggio le capsule sono state disattivate sigillate qualcuno le ha chiuse perché le capsule di salvataggio sono disattivate c'è dentro qualcuno lancia le capsule manualmente ora è stata costretta a lanciare tutte le capsule forse ne rimarrà soltanto uno ma è meglio di niente lancia eh l'equipaggio non ce l'ha fatta no sono vuote tutte vuote tranne una no aspetta in quella c'è qualcuno ci siamo altre persone sono riuscite a fuggire non ci credo vabbè io sono uno di quelli in teoria cadono come pioggia non abbiamo visto tutte le capsule è impossibile sapere quante ne sono state lanciate ma qualcuno è riuscito a fuggire dall'esmeralda forse anche i tuoi genitori naturalmente non possiamo sapere se siano sopravvissuti sul pianeta spero che avessero con loro un'unità X come me sì e anche un piccolo dinosauro tutti hanno bisogno di un cucciolo di dinosauro chi non ha bisogno di un cucciolo di dinosauro torniamo tutti a casa e impariamo a suonare il mandolino oh fico grazie avanzamento sbloccato investigazione e e eh ma c'è finisce così neanche la grazia di sapere come minchia ci siamo tornati a casa ma ok tutto ma vabbè sono un filino perplesso eh che dire che dire eh praticamente Robinson è una sequela di puzzle quadrimensionali abbiamo spostato l'elemento eh puzzle 3D nella dimensione in cui ci possiamo muovere fisicamente fra virgolette grazie al VR eh idea fantastica realizzazione grafica eccelsa emozionante però tecnicamente ha un po' di problemini e qualche baghettino quella cosa che magari sono sistemabili con qualche patch ma vi dico io che l'ho giocato non è che adesso sbrodolo dall'idea di rigiocarmelo per completismo anzi vi dirò resterà quella cosa che farai provare eventualmente ad amici e parenti tutti per fargli provare la sensazione perché veramente la giungla è qualcosa di mozzafiato che mi ricorderò per sempre e ragazzi è bello ma è bello ma mi lascia della per primitudine a strati e a gondole qua e là non lo so boh eh sono sono quantomeno perplesso nel senso che mi aspettavo di dover fare una chiosa finale a fine avventura ma non immaginavo che sarebbe finita così torniamo a casa torniamo al nostro campo base abbiamo fatto un un giretto alla fine su un pianeta pericolosissimo in una zona abbastanza limitata praticamente il pallino blu che vedete muoversi non sono io è abbastanza indipendente a me da fastidissimo perché mi porta a muovere la testa in maniera diciamo un filino iea intanto però come dico sempre è giusto che abbiamo anche i titoli di coda però vabbè se andessero da un'altra parte non farebbe schifo stavo dicendo allora a livello di immedesimazione ne da parecchia io ho sempre la sensazione limitata dal fatto che sto parlando con voi non mi sento solo e completamente immerso e soprattutto ho fatto questa esperienza spezzettandola in più parti per via della registrazione video e soprattutto in più giorni per via del fatto che di mezzo sono anche stato assente da casa per qualche giorno ciò nonostante il pensiero di dover tornare qui su Tyson 3 alla ricerca di queste cose c'era nel senso che coinvolge ok avrei preferito magari un sistema di esplovazione va anche bene così avrei preferito magari dover interagire con enigmi più enigmosi che di azione ossia il rimanere bloccato sulla cima di una pianta perché devi passare in mezzo delle liane e devi solo spostare la testa è fantastico se uno ci pensa perché effettivamente ti porta a cercare di abituarti a fare quella singola cosa che tu avresti fatto nella realtà probabilmente nella realtà io non mi sarei neanche inerpicato su un albero gigantesco in mezzo a dinosauri che se scorreggiano ti tirano a terra però in quel momento in cui devi fuggire lo spostare le teste non è immediato e istintivo magari non per tutti ci sono arrivato anch'io che sono limitatamente portato a ragionare su queste cose o magari un istinto un filino più matematico che da da boy scout e però alla fine ci siamo arrivati abbiamo portato a termine questa missione però con il dubbio l'abbiamo fatto perché per avere una giornata diversa sul pianeta questa cosa ci dà quel qualcosa in più tutto quello che abbiamo lasciato indietro adesso il problema è che verrà catalogato nel senso devo ricominciare da capo a catalogarmi le blatte per avere il completismo devo fare completamente da zero o posso aggiungere questo è il diario di una giornata ci saranno altre giornate è un viaggio curioso un viaggio particolare un viaggio come detto anche durante l'episodio stesso anche troppo severo pretendere appunto la precisione millimetrica in determinati comandi è stato un filino scomodo eccessivo perché corri anche il rischio appunto per un minimo dettaglio di tornare indietro di mezzo gioco e rimanere un po' disorientato di fronte a determinate cose logicamente adesso con il senno di poi è una cosa che si può lasciarmi usare questo termine un po' abusato quando parliamo di Dark Souls si può generosamente rushare si può dare diritti al sodo però che senso ha rifarsi questa cosa se il finale è prescritto se la storia è scritta nel senso che dobbiamo fare per forza questa cosa su binari gli hamburger gli hamburger ho letto Burgel ho fame mi è venuto a dire hamburger i puzzle li abbiamo risolti si sono una brutta persona lo sapete i puzzle li abbiamo risolti sappiamo come si risolvono logicamente non ci metteremo più lo stesso tempo dovessimo rifare questa esperienza però avremo da recuperare quell'oggetto in più che era rimasto bloccato per quel bug che lo bloccava dovremmo cercare di catalogare quei quattro animali che ci mancavano senza magari sapere dove si trovano e per quale motivo si trovano in quel punto o perché non li abbiamo presi magari c'è quegli esseri che escono dalle tane e devi beccarlo magari ci sono anche animali che ce n'è un unico esemplare nella zona a nostra disposizione mancato quello non te lo vedi per quello dico che è un filino troppo severo per essere una prima esperienza così interattiva fondamentalmente è anche il primo gioco che porto a termine indossando il VR adesso mi dovrò spingere magari più in là finalmente in Batman e in Until Dawn Rush of Blood e fatemi sapere un po' anche voi cosa preferireste anche perché giustamente questa cosa richiede il suo spazio è difficile da collocare rispetto agli altri giochi in cui mi metto lì magari in un giorno che ho tempo registro 10 episodi poi li pubblico con una determinata cronologia distribuita nel tempo gli episodi del VR vengono più pesanti e quindi ci mettono più tempo a essere caricati ci metto più tempo a registrarli non riesco fisicamente magari appunto a esagerare con le sessioni prolungate però devo dire che ragazzi al VR ci si abitua alla svelta le sensazioni di disorientamento che avevo in principio e addirittura il fastidio tipo motion sickness che si era presentato all'inizio non si è più ripresentato quindi il fatto di abituarsi è una cosa veramente efficiente ci viene insomma ad abituarci io so di darvi una brutta notizia ma non ci posso credere abbreviazioni abbiamo sbloccato un trofeo per aver saltato i titoli di coda questo penso che sia il trofeo e prendetelo come critica cattiva è il trofeo più idiota che abbia mai visto in un videogioco cioè ok lo capisco che alla prima tornata magari i titoli di coda te li guardi tutti ok possiamo scoprire una cosa interessante in questo momento se nella nostra prima stanzetta potevamo interagire con altre cose no potevamo usare il telefono no la radio d'emergenza in realtà non potevamo interagire con una caccola di niente qua dentro fantastico vabbè cacciamo il muso fuori cacciamo il muso fuori ah si spegne completamente tutto una volta aperta la porta non ricordavo questa cosa eh no siamo esattamente dove eravamo in principio e vediamo un attimino si questo è il tic tac questo è un depuratore di acqua che possiamo gioiosamente lanciare guardate che bello però la zona la zona ora è aperta scusate un secondo le cose sono tutte attive si riparte così quantomeno curiosa come cosa no palo palo ok diamo un po' d'ordine questo non riusciamo a metterlo dentro andiamo così non possiamo più chiuderlo oltretutto scusa colpa mia colpa mia scusa con quello non si poteva interagire ok laica ora è qui scusate eh non per sfiducia ma quindi ok perfetto quindi noi tecnicamente possiamo questo risponde alla mia domanda potremmo tranquillamente eh procedere nel completare le nostre ricerche allora la nostra missione principale è completata però il resto resta libero quindi si può completare il gioco al 100% una volta eh finita la parte iniziale allora facciamo così tanto per eh toglierci lo sfizietto visto che poi col tempo ho capito come vieni faremo una partita a nascondino una sola e una soltanto vieni pupati la ciccia brava no che sto a fa è troppo lontano richiamala vieni qui non può andarci dieci nove otto sette sei cinque quattro ciccia vengo a cercarti adesso vediamo se riuscirò in maniera imbarazzante a perdere a nasconderello con un con una cosa grossa come un dinosauro sempre più vicino acqua fuocherello sempre più vicino non ci sei 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 nascosto nel buco decisamente vicino ho capito ma l'ho trovata speravo di non trovarla no ma state scherzando ha vinto lei qui piccola cioè sono imbarazzato ragazzi ho perso a nascondino con un cososauro dieci nove otto sette sei cinque quattro tre due uno vengo a cercarti lo so sono un merda ho spiato ci sei quasi eccoti qua ho vinto ho vinto nascondino che merda che sono senza vergogna ritegno alcuno senza pudore e niente ho perso Tris contro me stesso e ho barato a nascondino contro un dinosauro veramente ragazzi non ho vergogna di niente però posso dirmi soddisfatto posso dirmi soddisfatto quindi anche questa esperienza è stata fatta Lucia Doras salutate la vostra amica laica non la rivedrete mai più perlomeno non qui sul canale però se avete intenzione di mettere le zampe sul VR io Robinson tutto sommato ve lo consiglio è una fantastica esperienza poi logicamente se avete seguito tutta la serie avrete risolto anche gli enigmi fra virgolette per avanzare nel gioco quindi vi sarà stato magari utile come guida però il trovare tutto il resto starà poi a voi Lucia Doras io vi ringrazio non riesco a farvi ciao ciao con la manina ma ballerò con la testa e adesso vado tranquillamente e in scioltezza a vomitarmela perché ho fatto così con la testolina e mi sono fatto venire il mal di mare con tanta tanta gioia Lucia Doras vi ringrazio e alla prossima ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti